A pochi mesi dalla ripresa dell'anno scolastica, a 15 anni dal terremoto, il comitato oltre il MUSP fa il punto della situazione. Ci sono ad oggi dei dati aggiornati dopo un'interrogazione presentata dal consigliere Palumbo, ma insufficienti. 17 MUSP che ospitano 3587 studenti, ma sono dati parziali perché il comune ha risposto solo parzialmente appunto alle domande poste. Da due mesi, da quando è stata presentata l'interrogazione, la comunicazione fornita riguardato solo il MUSP in uso, gli studenti ospitati, gli interventi di manutenzione, rimangono aperte domande cruciali come quelle sui costi della manutenzione e soprattutto manca un piano di dismissione. Il comitato attacca l'amministrazione perché in due mesi non si è riuscita a ricostruire la situazione totale dei MUSP, si rimanda a settembre. Per il comune nel 2026-2027 si dovrebbe avere un quadro preciso con i MUSP tutti abbattuti, ma il comitato è scettico anche su queste tempistiche. Il comune ha individuato in quasi 20 MUSP quelli ancora attivi. Purtroppo i MUSP nascono per una esigenza di emergenza, infatti nel loro stesso nome sono i due moduli di eduto scolastico provvisorio. Purtroppo dopo 15 anni hanno tutte le problematiche di strutture che erano pensate invece per un'emergenza di pochi anni, quindi manutenzione straordinaria, infiltrazioni eccetera. Intere generazioni di studenti e studentesse all'Aquila hanno avuto la loro esperienza scolastica purtroppo in questi tipi di scuola, che solo l'abnegazione degli assistenti e degli insegnanti ha permesso di tamponare e quindi permettere comunque un'esperienza estremamente positiva. Purtroppo è stato chiesto al comune due anni fa la pubblicazione di un piano di dismissione dei MUSP che ad oggi non è ancora arrivato e anzi nel dossier ufficiale sulla ricostruzione scolastica uno dei 16 interventi di ricostruzione delle scuole parla di un MUSP che deve essere adeguato e ampliato. Quindi siamo al paradosso, i modi di aduso scolastico provvisorio diventano in alcuni casi definitivi. In realtà il comune ha prodotto un dossier sulla ricostruzione delle scuole ma le domande che fa il comitato sono altre anche perché si vogliono più certezze sui tempi. Ad oggi sono tutte domande nevasse per il comitato.